Il problema secondo me non sono in quanto gli immigrati, non sono loro, è proprio il sistema. Il sistema non va così. Un paese intero che si nasconde dietro a un dito in Facebook, che non va bene niente, e siamo in quattro, in tutta malcontenta, è una vergogna. È sbagliata la gestione. Nessuno è contrario a queste persone che hanno bisogno di aiuto. In qualche modo si aiuteranno, ma a prenderli, parcheggiarli qui, lasciarli qui come quelli dall'altro lato del paese, perché siamo l'ultimo paese del comune di Mira e siamo divisi a metà dal canale, siamo l'ultimo paese del comune di Venezia. Quindi li sbattono tutti quanti qua, ma poi li abbandonano. È quello il problema. Li abbandonano e restano qua. Allo sbando non vengono controllati. Ieri facevano i bisogni sulla rete del campo da calcio con i bambini che si allenavano dentro. Umanamente non è giusto, però neanche noi ormai ne abbiamo tantissimi a malcontenta di queste persone qua. E noi vediamo cosa fanno quando si dà qualcosa o da mangiare che la buttano nelle immundizie. Purtroppo il sistema ormai siamo saturi di tutto e poi ci attiacchiamo con loro che forse non ne hanno neanche colpa. Da guerra sinceramente dubito che arriva, per cui qua ho concluso tutto. Tutti i giovani, bei, sportivi, ben vestiti, lo credo proprio che arriva da guerra.